Voglio chiedere una cosa da ignorante, come sono in materia, ma sarebbe stato possibile chiudere la borsa? Non sarebbe stato meglio? Sarebbe stato possibile? Beh, probabilmente chiudere la borsa no, ma sospendere le vendite allo scoperto sì. E quindi cosa vuol dire sospendere le vendite allo scoperto? Che il mercato in qualche modo si raffredda, almeno temporaneamente. Certo, probabilmente poteva anche essere chiusa nel momento in cui c'erano eccessi di ribasso. Perché chiaramente c'è qualcuno che ci guadagna e ci specula e scommette sul fatto che l'Italia non ce la farà. Ecco, questo è ancora prematuro per dirlo, perché questo è quello che ha innescato la crisi del 2007-2008, quando il mercato ha scommesso che l'Italia non ce l'avrebbe fatta. Questa volta, secondo me, la situazione è molto diversa. Probabilmente per una serie di fattori, tra i quali il fatto che il sistema finanziario è più solido e che probabilmente c'è molta più sensibilità della necessità di un intervento comune sui mercati. Comune, parliamo comune a livello europeo. E lo vedremo, tra l'altro domani ci sarà una riunione fondamentale che dovrebbe dire basta con il patto di stabilità. Quindi vedremo cosa succederà domani.